Si è conclusa domenica 10 settembre a Mantova l'edizione 2017 del Festival Letteratura. Nella cornice di Piazza Castello, nella giornata conclusiva, l'iniziativa ha ospitato inedita Energia 2017, Viaggio in Africa. L'evento moderato da Neri Marco Re, in cui la scrittrice e insegnante Angie Mubiai, il medico di Lampedusa e protagonista del film Fuoco a Mare Pietro Bartolo, il senior advisor Fao, Jean-Leonard Touadie e l'autore del progetto teatrale Il teatro fa bene, Jacopo Fo, hanno articolato un dibattito e un ragionamento sull'Africa. C'è proprio un'ignoranza pazzesca su proprio che cosa sta succedendo, perché questa gente scappa dall'Africa, perché arrivano qua e questa gente va in giro e grazie alla disinformazione, perché nessun telegiornale ha raccontato che cosa succedeva in Libia quando venne bloccata l'immigrazione in Italia. Tutti contenti a vantarsi, noi abbiamo bloccato, ma quanta gente avete ammazzato? Secondo me non abbiamo alternativa alla cultura per conoscerci, riconoscerci e tentare di creare degli spazi di condivisione, oserei quasi dire degli spazi di contaminazione interculturale e questa è la vocazione della cultura. Al fianco della discussione, nell'atrio degli arcieri di Palazzo Ducale, si è tenuta la mostra fotografica Viaggio in Africa, organizzata da Eni in collaborazione con il Festival.